I centri continueranno a rimanere aperti, adesso al presidente che ha avuto anche la nomina di commissario con lui faremo una verifica dei vari centri perché ci ha chiesto i dati per capire realmente quanti sono i numeri di vaccini che vengono realmente effettuati, chiaramente la volontà è quella di mantenere sul territorio quanti più centri al fine di proseguire l'attività vaccinale, la campagna vaccinale. Qual è la situazione attuale della Calabria dal punto di vista dei vaccini? Ci sarà anche il richiamo per le persone fragili ma anche perché ha avuto il vaccino Johnson. Sì, la situazione è che ci sono alcune province che hanno superato il 90% come ad esempio Vibo Valencia e altre province che sono sopra l'80%, solo la provincia di Reggio Calabria è sotto l'80% quindi la media regionale comunque fra i primi vaccinati, i primi dosi è Johnson, superiore all'80%. Chiaramente le seconde dosi sono quasi tutte quante ormai in cantiere, terze dosi sono partite per over 60 fragili, personale sanitario, adesso partiranno per quelli che hanno fatto il Johnson che sono circa 70.000 persone e poi successivamente credo sarà allargata a tutti quanti. Il percentuale c'è di vaccinati in Calabria attualmente? Siamo oltre l'80% di prime dosi. Abbiamo problemi per quanto riguarda il no green pass, no vax e quant'altro? Chiaramente quelle sono situazioni personali e individuali che vanno rispettate, chiaramente fin quando non intaccano... Abbiamo percentuali, abbiamo l'importo di quella percentuale? Nelle percentuali dei no vax non le sappiamo chiaramente, possiamo dire che quelli che hanno fatto la prima dose sono superiori all'80% quindi rimane un 20% da vaccinare. C'è un rischio per la Calabria o comunque la situazione dal punto di vista anche ospedaliero tra vaccinati e contagiati è comunque buona? La situazione in questo momento è che l'RT è basso quindi non comporta grossi rischi, i posti in terapia intensiva sono sotto la soglia e anche i posti di degenza ordinaria sono sotto la soglia quindi anche per questa settimana saremo zona bianca.